Stasera abbiamo ospiti Nuovamente il signor Francesco Brunori Che è il presidente dell'associazione AIBS Associazione Italiana Vittime delle Sette Che ho già avuto il piacere di intervistare una volta E abbiamo un nuovo ospite che è il signor Alessandro Che è un fuori uscito E che stasera o oggi pomeriggio Secondo quando vedete il video Ci racconterà la sua esperienza Benvenuto Francesco e benvenuto Alessandro Buonasera Roberto Bene Alessandro vuoi raccontarci un po' la tua esperienza Cosa ti è successo E come hai vissuto tutta la situazione Prego Allora io purtroppo sono entrato a far parte di una setta Che si chiama Soga Gakkai Non sapendo che fosse una setta Ma mi era stata propinata E viene propinata come un'associazione laica buddista Che non lo è È una setta a tutti gli effetti E con tanti buoni propositi Perché ovviamente una persona Non entrerebbe a far parte di una setta Se ne fosse inconscio A meno che non avesse dei problemi particolari O delle esigenze che ne derivano Di fragilità di momento O conoscenze che ti fanno aderire Così come è stato il mio caso Allora io quasi dieci anni fa In un percorso molto particolare Delicato della mia vita Che avevo anche in ballo Delle questioni D'eredità con la mia famiglia Quindi stavano vendendo una casa Ai miei familiari Io avevo delle cose in ballo E dovevo essere particolarmente attento Ahimè sono stato introdotto Dalla mia ex compagna adesso Dentro la setta sola Con un intento di migliorare Ancora di più la mia vita Che andava benissimo Io ero in pieno delle mie facoltà In rinascita Morbo di crone di cui sono affetto Era quasi a un livello zero Cioè ero quasi possiamo dire guarito Quindi stavo benissimo E lei mi invitò ad entrare Questa setta Dicendomi che mi avrebbe portato Numerosi benefici Miglioramento del mio karma Realizzazioni di cose impossibili E tante altre cose Che professa questa setta Questa setta funziona così Vieni intanto irretito Con una dicitura Che loro dicono Che fanno shakobuku Che significa far entrare le persone Propagare questo Per far prendere L'onzon Che è l'oggetto di culto Di questa setta E poi le pratiche del daiku In effetti Shakobuku non significa questo Sono venuto da conoscenza Che significa ben altro Non è una cosa benefica Ma significa spezzare E sottomettere di fatto Queste sono tutte cose Che all'interno di questa setta Tu vieni bombardato inizialmente Nel tentativo di fare amicizie Di integrarsi Di piacevolezza Con un love bombing Tu vieni Diciamo Interagito con i membri Come una persona meravigliosa Ti fanno sentire al centro del mondo Come se potresti conquistare l'universo E ti invitano A conseguire Di prendere Gonzon Che è una pergamena Sulla quale si recita Che è l'oggetto di culto Che loro lo chiamano così Ma è tutt'altro È qualcosa di molto nefasto Loro ti invitano Con grande tenacia A prendere questo Gonzon Fino a quando tu Non ricevi questo Gonzon Loro sono addosso a te Nella tua vita Entrano piano piano Incominciano a dirigerti Incominciano a dirti Che devi fare Una pratica Che si chiama Daimoku Che è una specie di mantra E lo devi ripetere Quasi morbosamente Poi c'è lo ZAMU Che sono delle offerte Che tu devi fare Perché migliorerebbe La tua Sono delle offerte in denaro Che devi fare L'associazione Che loro dicono Che non obbligano Ma psicologicamente Ti sottomettono In maniera tale Che ti dicono Che se non fai ZAMU Non sei una persona Che potrà andare avanti Non godrai Dei numerevoli benefici Che ti potrà potrare Nel fare Questa 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 donazione Chiamiamolo così Che si chiama ZAMU E quindi Ti portano a conseguire Questo Gonzon Che è l'oggetto di culto Di culto Scusate E fino a quando Tu non lo ricevi Loro sono addosso Nella tua vita E si insinuano Dappertutto Incominciano a fare Un lavaggio di cervello Costante E perpetuo Con tutte le tue fragilità Perché ovviamente Tu vieni bombardato Da tante e tante scritture Che loro sono abili Nel propinare Perché la storia Non è buddismo Loro sono abili A usare dei testi Di maestri Quali Siddhartha Quali Tientai E tanti altri maestri Di cui In Oriente Hanno Delle bellissime Diciture Delle bellissime Frasi Non so come chiamarle Che ti danno Una grande profondità E quindi Ti fanno sentire Al centro del mondo Ti fanno sentire Quasi Che fossi Capace E di trasformare Il come dicono loro Una delle loro frasi Il veleno In medicina Perché loro hanno Delle frasi standard Con le quali Ti bombardano Nel lavaggio Del cervello In modo che tu sia Completamente Sottomesso Piegato Plagiato Per poterti dare Poi Impasto Successivamente A tutto ciò Che ne concerne All'interno Di questa setta Quindi se tu hai Denaro Verrai Spellato vivo Se tu hai Una compagna Piacevole E i membri Gli aggrada Faranno in modo Che la tua relazione Si spezzi E possa andare Impasto Ai compagni Di fede Cioè Qualunque cosa Possa essere Utile Al branco Gerarchico Della setta Tu Ne vieni Inevitabilmente Coinvolto E Sottomesso I voleri Quindi prendendo Questo gomzon Dopo che tu Hai questa cerimonia Di gomzon Che ricevi Questo Dicono Oggetto di culto Tu poi vieni Improvvisamente Mollato Perché tanto Tutto questo Entusiasmo È finito Il loro obiettivo È raggiunto Tu sei entrato Dentro la setta Tu Adesso Praticamente Il tuo Condizionamento Di cervello Che ti fanno Continuamente Perché se ti fanno Delle cose Spiacevoli O succedono Delle cose Spiacevoli Così come è successo All'interno Della mia setta Che sono stato Vessato Discriminato Bullizzato Mi è stato fatto Di tutto e di più Mi hanno fatto Perdere il lavoro Mi hanno distrutto La salute La psiche Anche Ero dentro Dentro la casa Di un buddista Chiamiamolo Che non è buddista Di un membro Della setta Soca Io stavo Conseguendo il lavoro Prima del covid E mi è stato Fatto perdere Il lavoro Perché Potevo essere D'intalcio Alle manovre Che avevo In interno Inerenti La mia ex C'era un tipo Che è una persona Purtroppo Non stabile Con dei precedenti Di tossicodipendenza E non solo Anche di alcolismo Che aveva messo Le grinfie Sulla mia ex Che viene da Una storia di violenza Quindi un soggetto Facilmente manipolabile Infatti l'hanno fatta Avanzare Di grado Perché per maligno Darti meglio Loro ti portano I gradini più alti Cioè Più tu sei debole Più loro ti portano Nel farti diventare Responsabile E capo Quello che viene avanti Come tutte le loro Scale gerarchiche In modo che Stai coinvolto Internamente E sottoposto Continuamente A un lavaggio Del cervello Alessandro Ti posso fare Una domanda? Certo Volentieri Era molto interessante L'inizio Quando hai cominciato A raccontare La tua esperienza Quando hai detto Che in un momento Diciamo florido Della tua vita La tua Compagna del momento Ti ha invitato A partecipare Alla classica Riunione Come fanno Gran parte Dei socani Che invitano Le persone A riunione Già lì Mentendo Più che facendo Proselytismo Mentendo Sulla Favoletta Dei grandi benefici Che già dal primo incontro Potrai Ottenere Recitando Il loro Mantra Che tu Alla prima esperienza È impossibile Che capisca Quello che tu dica Giusto? Sbaglio? E improvvisamente Un po' per magia Questo fluido Cosmico Ti penetra Nell'anima E già ti fa sentire In uno stato Diverso Loro parlano Di alzare Il livello Carnico All'alsticella Del karma Non si capisce Non si capisce Come mai Improvvisamente Alla prima Recita Di un mantra Incomprensibile Tu già riceva Dei benefici Questo è chiaramente Superstizione Secondo me O comunque Una balla Abbastanza clamorosa Ma la domanda è questa Scusa L'introduzione Molto lunga In un momento Positivo Della tua vita Cosa ti ha tratto Perché generalmente Si fa parte Di un gruppo Abusante Quando tu Non stai bene Hai delle fragilità Come giustamente Hai sottolineato E Roberto Lo può anche Confermare Nel suo lavoro La fragilità Ti porta ovviamente A cercare Appoggi Soluzioni Fa parte di un gruppo Ecco In un momento Che tu stavi bene Cos'è che ti ha Attratto Per rimanerci E farti così Ingabbiare In questa spirale E te lo spiego Benissimo Perché io Avevo avuto Una storia Con la mia donna Che era la mia compagna E purtroppo E purtroppo Faceva parte Di una spirale Di violenza Partendo dal marito Dal padre Dal figlio Eccetera Eccetera Figlio che è diventato Soccano E protetto E completamente Cullato dalla bambagia In ogni sua nefandezza Quindi avendo avuto Una spiacevole Prescedenza Di eventi Che avevo Purtroppo Passato Insieme a lei E c'era stata Una forma di rattura Lei si è avvicinata Con la promessa Di ritornare insieme Di seguirmi Nelle Battaglie Nelle cose Che avevo da fare E che le cose Sarebbero diventate Ancora meglio Sarebbero diventate Spettacolari Avrei potuto diventare Un altro poco Il padrone del mondo Quindi Lei mi ha portato All'interno Con la Dice Facciamo insieme Entriamo insieme Questo posto Meraviglioso Dove tu avrai Innumerevoli benefici E io Come vedi Sono cambiata Voglio stare con te Voglio ritornare Voglio rimediare I miei errori Eccetera Poi purtroppo La setta È quello che è E ci ha inevitabilmente Distrutto Perché I figli Avuti da un precedente Matrimonio Di violenza L'ex marito È stato condannato Per violenza aggravata E non solo È il figlio Grande Adesso Ma allora Un po' più che ragazzo È È tutto Suo papà Diciamo E quindi Sta continuando Ad essere Quello che È di famiglia Loro lo chiamano Karma di famiglia Ma intenti Di famiglia Violenta Quindi L'interazione Con la mia ex È la promessa È la promessa Di un ricongiungimento Di un ricongiungimento E di un'unione Florida Con il supporto Di questa setta Che allora Veniva chiamata Associazione per la pace Buddista Mi ha dato la spinta Di voler entrare Perché io Ero in un periodo Molto bello Della mia vita Una rinascita Meravigliosa E stavo costruendo Purtroppo Con tutte le vessazioni Con tutto ciò Che ne ho subito Dentro questa setta Io Non sono stato Più neanche Concentrato Con l'aggravante Che sono stato Anche Colpito Dai miei familiari E quindi Ho avuto Un disastro totale E quando all'interno Della setta Io Avevo I comportamenti Dei compagni Di fede Che così si chiamano Fra di loro Che te ne facevano Di ogni dunque Di ogni schifo Io andavo a protestare Mi dicevano che Dal 2016 Quando è morto Di Cheda Di scrivere Di Cheda E mi dicevano Che la più grande Manipolazione Che facevo E che Ti danno la colpa Delle loro azioni A te Dicendo che Il tuo karma Te lo sei Voluto tu Che quello Che ti stanno Facendo È colpa tua Perché fa parte Del tuo karma E tu dovrai Recitare Felicemente Insieme Con queste persone Ecco Mi confermi Mi confermi Che la formula È sempre La stessa Molto stereotipata In cui A prescindere Dai risultati Che uno ottiene Il beneficio Sempre E quasi Esclusivamente Materiale Se lo ottieni È merito Del gonzone Delle tue ore Di pratica Mentre se Ti faccio due domande Questa che sto facendo adesso Mentre ti dicevo Se tu hai Delle delusioni O non raggiungi Dei certi traguardi È colpa tua Perché resci Di con poca fede O troppo poco Questa è un po' La spiegazione banale Che tutti i responsabili Di gruppo Che sono i responsabili Di basso livello Molto poco preparati Ti propinano A tutti gli adepti Questa è la prima domanda La seconda È che Riguarda Lo Zaymu Perché veniamo Spesso attaccati Dai adepti E da altri Simpatizzanti Del fatto che Ci accusano Che noi Continuiamo A sostenere Che lo Zaymu È una Formula Di finanziamento Dell'organizzazione Basato Su La scusante Che non si è mai Ben capito Forse tu ce la puoi Spiegare Che più dai E più ricevi Ma è un po' Troppo banale E infantile Ecco Loro dicono Allora Non sei obbligato Perché ti prendono In trabocco Ti dicono Non sei obbligato Però Se non lo fai Se non lo fai Non avrai I benefici Che ti derivano Che saranno Innumerevoli Perché più dai Più riceverai Dal cosmo Dalla recitazione E da tutto il resto Che ti arriveranno Innumerevoli benefici Quindi se tu dai Un milione di euro Si moltiplicherà Per dire Per tanto Quindi avrai Cento milioni di euro Di benefici Cioè ti fanno Questo modo Di lavaggio del cervello Se tu dai Cinque euro Avrai cinque Per esempio Per tot percentuale Di beneficio Quindi Psicologicamente Ti dicono Più dai Più tu Terrai Quindi non è vero Che non è Un condizionamento È un condizionamento Implicito Che ti inducono Con una manovra Mentale Subdola A dare Sempre più denaro Perché Quando tu ti trovi A vivere la vita Non sempre Hai delle somme Devi pagare la tua vita E loro ti dicono Non ti preoccupare Dai quello che puoi Però se dai poco Ti guardano male Ti guardano male Ah è dato solo questo Eh ma conviene Che dai di più Perché se dai di più Otterrai molto di più Quindi è sempre Un condizionamento Tale Come per dire La stessa cosa Del condizionamento È quel tizio E quel caio E quell'altro Settario Ti combina questo Ti distrugge la vita Ti fa perdere il lavoro È colpa tua È colpa tua È il tuo karma Tu te lo sei voluto Far parte del tuo karma Devi recitare di più Dici ma io faccio Un'ora di daimuco Di recitazione Due ore di daimuco Eh non basta Si deve stare Interi giorni Davanti al gonzo A recitare Perché più tu reciti E più tu pulisci E quindi ti invitano A poter fare Questa recitazione Che è sempre Un metodo Per usare Una forma Di lavaggio Del cervello Perché questo mantra Ha dei canoni Che fanno in modo Che alzano un po' Le endorfine Quindi uno si sente Euforizzato E da questa euforia Loro ne traggono Beneficio Perché ti possono Manovrare Ancora meglio Praticamente Certo Quindi qualcosa Tu fai È indicata Secondo i loro canoni Quindi Daimuco Lo devi fare Daimu Lo devi fare Devi aderire Alle riunioni Devi sottostare Praticamente Delle scale gerarchiche Perché loro dicono Che non hanno Delle scale gerarchiche Ma io È assolutamente falso Esatto Stavo Puntualizzando Io all'interno Mi sono sentito Ripreso Ma non una Innumerevoli volte Per dire Quando io Giustamente Aderendo a quello Che mi dicevano loro Che non c'erano Scale gerarchiche Che tutti Eravamo uguali Io mi ponevo In una posizione Di uguaglianza E mi dicevano Eh ma tu chi sei Che sei rappresentante Di territorio Sei rappresentante Di zona Sei rappresentante Di qua Scusa come ti permetti Di dire quello Che possiamo fare Non possiamo fare Perché io esprimevo Dei consigli Visto che eravamo Tutti uguali Ma tale Non era Tale Non era Queste sono tutte Indicazioni Di manipolazioni Infatti Quando Io mi sono reso Conto Del condizionamento Mentale Dopo aver conseguito Il gonzo Là sono incominciate Le perseguizzazioni Perché io cercavo Di trovare Anche Delle Perché Ci sono Tante persone All'interno Ci sono persone Che sono inconsce Anche in buona fede Quindi mi interfacciavo Ma subidolamente Loro Ti Fanno in modo Che ti screditano Ti trattano poi Come un appestato Appena tu Questo Alessandro Perché tu Ovviamente Non hai ammesso Portare il dubbio No Non hai ammesso Più di tanto E me lo confermi Dal tuo osservatorio Non hai neanche ammesso Come posso dire Rendere pubblico Nelle riunioni Le troppe delusioni Per non aver raggiunto Alcuni scopi Almeno io così ricordo Più tu parli bene Anche inventandoti Dei benefici Che non hai ottenuto In realtà Ma pur di far Bella figura Io ho visto Le gente che si è inventato Ah ecco Addirittura Te ne conoscono loro Però se tu Metti dei dubbi O fai delle domande Scomode Oppure dici Che non riesci A raggiungere Certi traguardi Comincia Una specie Di lento processo In cui tu vieni Discriminato Perché non sei In grado Di propagare L'energia positiva Del daimoku Certo Perché praticamente Tu Più tu Dici che le cose Sono belle Sono meravigliose Secondo i loro canoni Che sono andati A buon fine Grazie al daimoku E alla pratica E allora sei ben accetto Diventi la persona Migliore del mondo Appena tu dici Che quella cosa Hai recitato Per cinque ore di fila Daimoku E non hai fatto Una cippa Anzi ti è andata Peggio Ti sei distrutto La relazione Con la tua ex Il figlio Dell'ex compagno Dell'attuale ex Si comporta come Una persona delinquenziale Ha degli atteggiamenti Altamente distruttivi E persecutori E violenti Perché ho fatto presente Anche i precedenti storici Che ci sono Negli incartamenti No Tu sei sbagliato Perché c'è una specie Di catena Tra di loro Che tra simili Si riconosce Quindi Facciamo un esempio Se una persona È tossicodipendente È alcolista Ne troverai Tanti altri Là dentro Che si aggregano Questa è una conformità Umana Che succede sempre E all'interno Della soga del cai È un raccolgo Di tante cose Se una donna Subisce violenza È colpa sua Non è colpa Che deve andare E se trova Un altro compagno Che si chiama Di fede Che è una persona Un violentatore Ed è amico Di un tizio Di un caio Come è successo a me Riguardando la storia Della mia ex Della Degli alti gradi Della soga gaccai Che era il direttore Del cai Cagno di Milano Questo era compare Non è importanza Se quello è un alcolista Non è importanza Se è un drogato Non è importanza Se fa violenza Quello ha deciso Che si deve prendere Quella persona Ha deciso Che deve ottenere Quegli scopi E viene coperto Da un'intera setta Praticamente Perché è una caccia No Sei stato molto chiaro Io continuo a farti Le domande Perché Vedo che c'è Mi confermi Tante situazioni Che noi denunciamo Regolarmente E noi Dell'associazione Eh bravo infatti Guarda mi dispiace Detto ciò Noi sosteniamo Che la Soga gaccai All'interno dei gruppi Di preghiera Non sviluppano Il senso Di pietà Buddista E di compassione Buddista In senso buono Ma sviluppano Quello che è L'estremo egoismo Della persona Cioè Come lo chiamano loro Il mappo No tu Eh se io sbaglio Correggimi Per carità In cui in realtà Ti mettono in competizione Con l'altro No È vero Sì è vero Sì è vero Perché praticamente Ti mettono in una riunione Ti dicono Tu cosa hai fatto Tu questo non hai fatto E se tu Non sviluppi Secondo i loro canoni Vieni quasi Schifato Quasi Tipo Non lo facciamo parlare Infatti Mi sono ritrovato In una famosa Recitazione E un gruppo Perché loro si riuniscono Per fare questi Zedankai Questi studi Che fanno di loro Li chiamano con questi Terminologie giapponesi Che oggi La Sogagakai Sta andando proprio in voga Questa setta E niente vittime Perché c'è questo boom Dell'oriente Del giapponese E quindi loro Con questa favoletta Dei monaci buddhisti Delle storie di Tientai Del Siddhartha Eccetera eccetera Danno questa voga E quindi ti ritrovi In mezzo A delle situazioni Dove loro ti dicono È una cosa Molto rara Che tu sei diventato Membro Di questa associazione Perché è una cosa Che ti porterà Dei benefici Però nel momento In cui tu Non corrispondi E fai presente Che ci sono Dei disagi Che ci sono Delle incongruenze Che ci sono Delle cose Che non combaciano Che uno è L'ungimirante Ha un po' D'intelletto Ci arriva Alla fine E non si fa Manipolare E quindi Loro Sfruttano Le persone Ancora più Deboli E a questo punto Con il dubbio Tu diventi La vittima Della Della persecuzione E ti abitano Il demone Del sesto cielo Perché per loro Diventi un demone Nel momento In cui tu Non sei Più concorde Con il branco Settario E gerarchico Di questa setta Che è la Soga Gakkai Tu diventi Il loro nemico Da distruggere Da screditare Ma non lo fanno Apertamente Lo fanno Subdollamente Ecco Questo è importante Dirlo Questo va Sottolineato Perché Perché a me risulta Che la Soga Gakkai Si fa Si fa onore Si fa gloria Del fatto Che loro In realtà Non Come posso dire Non buttano fuori Le persone Ma fanno In modo Che sia tu Andartene No Per una tua scelta Non è Una Una libera scelta Dovuta A una dialettica Di confronto È una scelta Dovuta Alla disperazione E del fatto Che non ne puoi più No E quindi Te ne vai Allora loro si beano Dicendo che loro Non hanno mai cacciato nessuno Il che è assolutamente falso Ma grazie a questo Sistematico Eh Questa Sistematica aggressione No Psicologica Sei tu Il perdente Che te ne vai E te ne vai Perché sei un perdente E non perché La loro pratica Non funziona Me lo confermi? Esatto Tu fanno in modo Subdolamente Che tu te ne vada Nel momento in cui Tu sei stato Spolpato Di qualunque cosa Può essere Inerente Allo zamo A una donna Con la quale tu vivi Che è la tua compagna A delle cose Che avevi tu E sono Sono state Tirate in ballo Qualunque cosa Posso essere utile Che tu sei andato A condividere In buona fede Completamente A metterti In buona fede In apertura Come dicono loro Nel momento in cui Non servi più E non aderisci Alle scale gerarchiche Della setta Non ti sottometti A tutto questo E non segui Cecamente Il loro lavaggio Del cerondello E anche il loro modo Di parlare Tu diventi un nemico E quindi Te ne fanno Di tutti i colori Come è successo a me Ti fanno perdere il lavoro Ti mettono contro La tua compagna Ti screditano Con altre persone Conoscenti Perché uno cerca Di fare amicizie Ti fanno perdere il lavoro Ti fanno perdere l'alloggio Così come è successo a me L'associazione italiana Vittime delle sette È stata fondata nel 2016 Da persone che hanno sentito La necessità di unirsi Per fornire un concreto sostegno A chi si trova a vivere L'esperienza di un gruppo totalizzante Esperienza che loro stesse Hanno vissuto Direttamente o indirettamente Ives è nata con lo scopo Di rispondere All'esigenza di coloro Che non ce la fanno Lasciare questi gruppi O che una volta usciti Si ritrovano abbandonati Dallo Stato E dalle istituzioni Soli Perché tutti i loro punti Di riferimento Erano all'interno del gruppo Spesso senza lavoro Risorse economiche E con grandi problemi Di reinserimento Da innoscianza Chi era una voce Di far sentire la propria voce Il nostro kangi